Pace e bene a tutti, ben arrivati alla nostra casa di accoglienza che è qui a Morcone, vi porto a far conoscere la nostra fraternità. Sono padre qui a Capuano, mi avevo visto qualche volta nella trasmissione una decina mia bifla, auguro a tutti quanti voi di pregare per le vocazioni. Pace e bene. Sono fra Eliseo, il guardiano di questa fraternità d'accoglienza, penso che sia una cosa buona per voi, diciamo così, anche se volete venire e provare qualche giorno a stare con noi, vi troverete bene. Pace e bene. Sono Fra Donato Ramolo, mi trovo qui nella casa di accoglienza, sono l'economo di questa comunità. Pace e bene a tutti. Pace e bene, sono padre Denis Lobo dall'India, sono qui in casa di accoglienza. Un risaluto a tutti. Pace e bene. Io sono Giuseppe Chirlo e vengo dall'Alto Casertano e dopo un'esperienza che ho fatto, ecco, di vita diocesana, mi sono accostato a questa realtà dei frati Cappuccini e per cui, ecco, attratto da queste figure, ho deciso di intraprendere questo cammino di discernimento qui in questa casa di accoglienza di Morcone ed è un momento di, un periodo di vita in cui, di discernimento in cui si approfondisce di più il rapporto con il Signore e si matura pian piano, ecco, la scelta vocazionale e ci si impegna, ecco, a conoscere anche quella che è la vita del convento, la vita in modo particolare dei frati Cappuccini. e quindi, ecco, è un invito questo anche a pregare per le vocazioni sacerdotali, anche quelle religiose e in modo particolare anche per le vocazioni alla vita Cappuccini.